Dai, mangia! No, a me non mi piace mangiare! Dai, mangia! No! Devi mangiare! No! Sì che devi mangiare, se no non cresci! No! Vuoi che chiamo tua sorella? Amelia, vieni qua! Ok! Cosa c'è? Fai vedere a tuo fratello come si mangia! No, neanche io questo voglio mangiare! E perché quando voi fate scommessa mangiate sempre? Tutto mangiate! Quello che è buono, che non è buono! Qualsiasi cosa! Perché? Perché challenge e challenge! Mangiare e mangiare! Aspettate! Ho una idea! Ragazzi, mettete like se non vi piacciono mangiare cose strane! Cosa ci porta mia mamma? Visto che voi non mangiate in un altro modo, ho deciso di prepararvi il challenge! Le regole sono semplici! Vediamo cosa c'è dentro! E poi qualcuno di voi deve assaggiare, qualcuno deve leccare, o qualcuno più fortunato e non ha niente la carta vuota! Pronti? Pronti? Sì! Vediamo chi lecca, mangia! Assaggia! Cosa? E cosa? Uno, due, tre! Limame! Ta da da da! Buono! Adesso, vediamo chi mangia, assaggia, chi lecca e chi è più fortunato e non fa niente! Io! Ok, io scegli questo! Io sceglio questo! Io sceglio questo! Io spero, spero! Niente! Mangiare! Che figa mangiare! Tu? Leccare! Te lo devi leccare! Lecca! Ti anni, sceli qui! Ma ancora? Ti piace? Sì! Dai, io devo mangiare! Lascia però qualcosa! Uno, due, tre! Che schifo! No! No, basta! Mi piace! Ma tu solo lecchi! Leccare va bene! Prossimo! Secondo piatto! No! No! Siii! Siii! No! Io mangiare! Io... No! Io... Mangiare! Perché io l'ho scegliato! No! Vediamo! Niente! Leccare! E te lo devi... Mangiare! Visto che io devo leccare, lo faccio prima! Non è buono! Sì! Tu devi mangiare! Mangia! Lascia a me che voglio fuggire anch'io! Tutto devi mangiare! Tutto? Ma perché? Perché quando ti do mangiare io tu non mangi? Mamma! Avete capito cosa dovete fare quando non sapete come far mangiare i vostri bambini? Fare il challenge! Pronti? Una... Due... Tre! Uuuuuh! Come vabbè? È buonissimo! Senape! C'è nell'addome! Ma io quando... Se devo leccare, devo leccare il senape! In che senso? Cioè devo leccare il senape o posso leccare quello che voglio? Intelligente domanda! Vediamo! Vai, fai tu! Leccare! Ho detto leccare! Mangiare nooo! Perché? Volevo far mangiare voi! Volevo niente! Quello che dico mi viene! Allora io dopo dico niente e poi mi viene niente! Cioè... Magia! Ho capito! A me niente! Io volevo far mangiare voi! Nonna! È già la seconda cosa! Non brucia vero? Non brucia vero papà? Senape e fa schifo ma non brucia! Nooo! Brucia! Ma guarda! Nooo! Potevi essere più furbo! Nooo! Perché se non chiudevi potevi leccare giù e nessuno non ti diceva niente! Invece hai fatto scoprire me queste cose! Hai fatto correggere lecce! Ti sei corretta da sola! Ma ti mi sta regzita così fregavi me! Niente! Niente! Non so se lei per quello sopra! Vai! Ma tu che devi nongiare si? Yes! Allora cosa vuoi? Però devi lecare! Adesso un cattiva vendetta di mamma! Scusa ma chi ti ha detto di lecare così tanto? Potevi solo fare così e basta! Io devo mangiare! Eh! Peggio per te! Acqua! Aga! Ci so time Fallout 2 è desiderato dependent su! Ti so tempo questo sendo che panta! Inaki?! Sitessa! Vuoi l'estintore? Yes! Ma è carota! A te non piace carota A me piace carota! No dai, tira Uno, due, tre Spero mangiare, spero mangiare Mangiare! Mangiare! Oh, oh, oh Le cose quelle che dico io No ragazzi, è fortunato perché vai carota Lui non piace carota Le cose quelle che dico io Mi vengono a me Olie, olie Tanto non faccia niente Io provo Ti piace? Lui non piace Lui non piace la carota E io piace Cruda Anche a me piace Vuoi provare? Ti spacca i denti Perché non li mangi? Vedete? Il challenge Il challenge funziona È un pesante Quando l'altro giorno le ho date Quando? Quando l'altro giorno le ho date Lui ha mangiato e ha fatto così Sì Stai contente tra me e te Forse vuoi non ne ho dito Ma sti vicoli non c'è La mia mia che si è diventa È un pesante Oh È buono Questa è la cosa preferita di Matteo Niente Voglio niente Matteo adora il burro A me invece non voglio da nessuna parte mettere burro Leccare Beh è come niente Allora niente Vabbè leccare è come niente Non senti niente Il problema è che Te piace molto mangiare burro E io sempre lo sgrido che non si può Non si può? No non si può Vado? Ragazzi vado C'è semmai io lo mangio con il pane ma così No non c'è il pane Devi mangiarlo così No devi leccarlo Sì lo so Niente di così Tu mangi Non ho sentito niente niente Solo l'odore No vabbè Adesso li viene mangi No No Come è buono Dammi qua questo pezzo Dammi qua Dammi qua Dammi qua No ma è troppo Non si può Non si può mangiare così tanto No fa male questo C'è capito 40 grammi di burro Buro Ma lui sempre ruba burro del frigo Io lo nascondo Giusto per farvi capire Che pari è? Giusto per farvi capire Non si può mangiare il burro Così A me non mi piace Dopo il burro ci sei? Oh Questa è la cosa preferita della mamma E cosa? A te non piace? Così così E' buono Invece piace Vediamo chi la mangia La lecca A me Quale è? Niente E' Mangiare A me è qualcosa Come volevi leccare Lecca Ognuno ha quello che ha in mente Corri Non cagli Non cagli Non cagli No raga Ma lui l'ha mangiato Io adoro uova Basta Basta Oh 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 Questa non è una cena Uova di lomto E' buonissima Anche a me Anche a te? Si No Lei non piace E la vano Abbiamo le cose uguali Spero almeno Almeno più Pronti? Si Insalata Beh insalata beh vedete com'è la risposta insalata beh a me ti piace a te piace? si a mangiare si io lecare acidissimo così mangia mangia tutto come così poco tutto mangia guardate ragazzi non piace teo non piace io mangio io mangio sono un po' morde via ma io mangio mamma io mangio si perchè c'è il video meno male meno male che ho inventato questo challenge almeno mangiano insalata i figli iiii come non mangio mangio solo i croccantini basta come non mangio? Oscar vedi che può mangiare ahahahahah ehi devi mangiare tutto non un appetitino di verdura stavamo caricando Oscar adesso mi vado a fare aspetta facciamo altro prima cerriamo cosa ti fa dai no 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 e io niente e io sconesto leccare no mangiare e tu? niente ok ok oh cos'è? cos'è sta roba? io non mangio il cibo preferito di nostra bubà mamma io non mangio sono fermi? si no davvero? sono fermi no mamma davvero sono fermi mangia mamma mamma ma davvero sto tenendo un verme in mano? mangia non lo so papà cosa sono? io non so come si chiama questa roba qua io non lo mangio lo mangia papà non sono fermi non sono fermi sei sicura? sicura sennò papà non la mangiava ragazzi sapete come si chiama queste cose? sapete come si chiama queste cose? mandateci sul nostro instagram se si chiama fermi io io vado a vomitare non vai tanto mangia uno vero? non si vai io non lo mangio allora ragazzi mettete un like solo perchè mangio questo tipo verme che ne so io mettete like uno due tre tre una calessa io l'ho leccato già beh buona ma tutto leccane due posso scoprirti un segreto? non dire niente se mi dici che è un verme non dire niente questo è un verme è un verme marinato non è come un verme è come un verme è come un germoglio il germoglio non è come un verme non è un verme ah apriamo ok ecco la cosa migliore è il motivo per quale stiamo facendo questo challenge te non piace e io piace che piace? perché non hai mangiato prima? mangiare? niente ragazzi avete capito? è il destino sono sfigata ma tu dovevi leccare? dai 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 sforzati sforzati ancora un cucchiaino ancora ma è possibile che bambina non piaccia mangiare il riso così tanto? e dovevi le cose buone che avevo scritto? buoni per me e non buoni per voi invece ci sono tutti non buoni tira tira leccare beh almeno questa cosa qua niente 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 almeno leccare perché sei triste vado adesso io mi chiudo occhi perché adesso piango vero? raga vado lui quando fa il challenge ragazzi lecco tutto no vado lecco piango non piango non piango non piango non piango Anche Oskar vuole mangiare E' il tentore in sua torsa Ecco No, vediamo chi lo mangia Io Vediamo, tirate il foglio Le care Mangiare! Per più o niente Mecca E tu mangia Anche me lascia A me interessa sottolinea A me interessa No, tu non puoi mangiare Te contro le regole Basta, in pulizione Non mangi il cioccolato per una settimana In pulizione Non mangi il cioccolato per una settimana Per un mese Guarda quant'è mangiata Teo puoi mangiare Ma non voglio Donald, tu puoi mangiare il cioccolato E' sempre così Allora adesso cipolla Devi mangiare in te Ecco Cipolla Cipolla A me 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 Ragazzi Ragazzi andate sul mio Instagram Così potrete vedere altri miei video divertentissimi Ciao Ciao